ragazzi cinemino stasera e allora dopo il disastro che abbiamo visto in casa ferragnez eccoli qua si rilassano in sala cinema chissà se la prima volta che la utilizzano questa vittoria che corre incontro a edo oggi l'ha visitata insieme a francesca ferragni forse parlare la prima volta in visita la sorella non sappiamo ma edo ha giocato con i cuginetti contentissimo guardatelo qua che arrivano sottatone e francesca ferragni sempre relax con maglione a righe eccoli qua insieme si vogliono bene i cuginetti e questo invece è leone da piccolo guardate le espressioni da piccolo e poi crescendo praticamente uguale bellissimo marina di guardo ogni tanto ci occupiamo anche di lei perché mi piace un sacco adesso in sicilia di fentrinelli ha presentato il suo libro eccola qua una donna di successo io la amo questa donna qui parte bella e anche